È davvero così drammatico il problema di dover avere degli ausili per coloro che hanno disabili o anziani, si parla addirittura di sei mesi di attesa? Insomma è l'occasione per dire, intanto diciamo come stanno le cose, noi eroghiamo ogni anno 17.000 ausili, abbiamo fatto i conti, anche per rispondere all'interrogazione, i casi che superano il mese, il mese e mezzo sono poche unità, però non deve succedere. Allora sia chiaro, non deve succedere, però sono poche unità su 17.000. Bene, come tenteremo di risolvere il problema? Avevamo iniziato in Valtiberina una sperimentazione che era così, fatta, di buon senso e funziona, cioè i presidi speciali, quelli che richiedono la consulenza obbligatoria per legge di uno specialista, vengono erogati due volte alla settimana, in ogni zona distretto, due sole volte alla settimana, ma quella volta, nel momento in cui le autorizziamo, c'è dentro lo specialista, nella fase di erogazione, a quel punto è tutto lì, è tutto insieme, se proprio uno è sfortunato aspetta uno o due giorni, a quel punto poi c'è il tempo della consegna, che sono 7-10 giorni, sono tempi assolutamente ragionevoli questi, entro un mese è ragionevole.